God bless them, God bless them liberare il cugino di Robin Hood eccoci William Scarnett è imprigionato nel castello di Neister e noi adesso dobbiamo prendere il nostro cugino che si trova esattamente qui prima che arrivino le guardie non queste che si trovano qui in generale ma proprio le guardie cioè proprio i soldati che dovrebbero venire a ascoltare il cugino a Nottingham non prendiamo tempo cerchiamo di non uccidere troppe persone non vale manco tanto la pena a meno che non siamo costretti che succede? c'è dei manvaggi che fanno agrabbiare i mendicanti e noi lo aiutiamo, lo aiutiamo qua è il problema, lo aiutiamo ok, si è impazzuto oh, statu qui ne potremo anche Cristo ne potremo anche portare questi soldati qua capisco perché lui si sia insospettito cioè non ho capito di che cosa sinceramente voglio capire ma sbaglio o diventa sempre più grande questo punto interrogativo ah, si è insospettiva forse per i soldati che non arrivavano oh, non me ne sono mai accorti in realtà se ci vado va bene finito il prossimo che c'è ancora? a posto a posto san ver vabbè vabbè questi tripla ti dirò un cazzotto sì, va bene ti do dei soldi perché sei a piagnolo? che è successo? dimmi a me vedi lui si preoccupa perché non arriva un altro esercito per questo lo sapevo qui gli imboscati se non spettano quindi vabbè ormai dobbiamo combattere che volete? un soccorso un soccorso assaggia questo che bello non c'è nessun altro no, no che ammazza a fe allora robin hood sarà l'unico che potrà aiutarmi in questo caso perché sarà lui che deve assaltare qua quindi a voi vi porto qua sono lui è bravo quindi sono lui è agile e poi combattiamo un gioco da ragazzi bandit addio avanti aspetta potevi rompere questa porta c'è altro? ma ti dirò un cazzottone tanto tu stai dormire per qualcuno vedi se io lo faccio stai a bandire del cazzio a dove stai? ce ne mette di tempo? eh bocciolo no se perché non mi lasciate in pagina? non ci può fare addio ti ho visto addio andiamo tanto ne abbiamo recuperato un sacco di frecci ok quindi adesso potrei effettivamente danti un cazzottone un gioco da ragazzi se ti riuscissi a vedere ragazzi fa male avanti fermola te la farò vedere io fa male vittoria prendi questo oh devierò un dono alla tua vita si parte ok vediamo che riusciamo a fa che ci sta in questa pegamento chi è? ma come cazzo siete usciti voi? non vittoria vi faccio meglio in guardia non hai nessuna scelta non c'è il mio forcone fa male prendi questo fa male te la farò vedere io fa male fa male ma dico fa male chi mi vuole? decisamente sono troppo vecchio ma dico fa male vabbè facciamo in fretta qua prima di andare da William che si trova qui oddio ma tu sei vivo avanti no 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 c'è qualcuno qui dentro a quanto pare no paciorno forse qua rotano giù che è un piacere quante gente c'è qua? cosa? in guardia in guardia in guardia in guardia mancato no te la farò vedere io vittoria in guardia no bang no no aspetta dagli un cazzottone a chi tocca non ci può fare senza di me ecco i soldi in guardia di volco fa male nemici fa male corri maledizione corri ebbene eccomi non fa male non farmi ridere e vaffan gu non ci può fare senza di me Robin Hood per servirvi sotto il prossimo che ci sta qua ah ah beh questa qua ok ma se io volessi entrare qua dentro c'è gente? considerato fatto ok erano quelli di prima bene aspettiamo che arrivi questo qui scassiniamo qua e ce ne andiamo consideralo fatto il prossimo ok un gioco da ragazzi c'è qualcuno che sei tu in guardia attenta te vittoria decisamente sono troppo vecchio in guardia andiamo finito ok qua abbiamo aperto nascondiamoci vai qua scendi vai qua per il manico del mio flagello guarda se questo non è lo zio Robin che piacere rivedervi non hai smesso di attirare guai scapestrato di uno scarret non me ne parlate messer Ranulfa mi aveva concesso asilo e protezione ma lo sceriffo ha approfittato della sua assenza per catturarmi il maledetto dopo ciò che ha fatto la nostra famiglia non ho che un desiderio poter stringere le mani attorno al collo di quel fellone e sia accompagnaci fino a Sherwood ma di grazia evita di mostrarti troppo brutale sono nostri compatrioti dopo tutto non credo che lo sceriffo comprenda altro linguaggio che quello delle armi caro Robin ve ne renderete conto voi stesso affrettiamoci prima che venga dato l'allarme un istante zio Ranulfa mi ha rivelato l'esistenza di un passaggio segreto che consente di uscire dal castello di nascosto vi si accede dalla sacrestia questo renderà più facile la nostra fuga perfetto prendi la tua arma e andiamo bene scappiamo subito perché che c'è ancora si comincia l'esercito è sotto oh un egito sta cazzo venga a me dove mi portava qua ok ma sai il cilindro è qui eccomo qua finalmente mai troppo presto arrivederci ok 28 video in risparmiato su 74 porca puttana chi mi vuole allora questi secondi puntiamo qua tu vai a prendere le pietre tu che sei uno nuovo facciamo due due qui c'è qualcuno da uccidere no 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 ok diciamo così tu sei diventa più forte di me va a pigliare le frecce a proposito appunto allora va a pigliare le frecce no ok allora ok come missione c'è questa qui quindi dobbiamo fare questa qua prepariamo già le truppe tu preparati al combat qua va bene ragazzi il video finisce qua abbiamo messo le truppe qui nel prossimo episodio noi faremo la missione di marian e spero che una serie vi stia piacendo in caso il video vi sia piaciuto mettete un bel mi piace commentate noi ci vediamo al prossimo video di Robin Hood The Legend of Sherwood ciao ragazzi